Sì, bella. È normale che abbiamo tagliato l'erba. Tre giorni fa era un'altra così, piena di spigli. Giorno! Lascialo, lascialo. Davvero mette a posto lei quando si rompe le scatole. Avevo la mia cagna, ragazzi, mamma mia, quando si avvicinavano a questa qui. Non ho mai fatto niente a nessuno, solo che mi...